Il muro del Genoa cede nel finale, e il Mila a fatica passa 0-1, a Marassi. Poco spettacolo ed emozioni col contagocce, in un primo tempo bloccato che va a folate, senza esito e determinazione di Ocafor, Renders, Teo ha morito, salterà la Juve, e Florenzi, occasione Mila, al 65esimo, Leo, smanaccia di testa, su cross di Florenzi, salva Martinez, chance anche per il livoli sinistro velenoso di Tragosini. Magnan devia in angolo, al 87esimo Pulisic risolve una gara complicata, al 101esimo Traversa Gundersen, su punizione, con Giroud in porta espulsa Magnan. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao!